Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, una serie di argomenti, di battaglie da affrontare, perché di battaglie si tratta, relative alla omofobia, alla pedofilia, alle discriminazioni sul posto di lavoro. Una serie di temi che rientrano ovviamente a pieno titolo nelle competenze, nel ruolo istituzionale che lei ricopre, ma che purtroppo hanno una terribile aderenza con la realtà. Sono oggetto, purtroppo fanno la cronaca dei nostri giorni, e a livello locale e a livello nazionale. Luigi, ti ringrazio per darmi questa opportunità. Io sento come missione della mia vita quella di combattere la pedofilia. È un avversario notevole, perché ci sono interessi economici a livello nazionale e internazionale molto cospicui. È una bestia da sconfiggere in maniera molto ardua, però il mio orientamento qui è rivolto ai genitori, perché è sempre più bassa l'età dei bimbi che sono vittima di adescamento, da parte di personaggi anche insospettabili che sono intorno a loro nella famiglia. Quindi ristamperemo, la mia attività proseguirà sotto legge di consigliere di parità, che sia chiaro, non mi fermo, e da lunedì sarò operativa e come consigliere di parità ho già previsto di ristampare un opuscolo sulla pedofilia che contiene dei piccoli suggerimenti, come accorgersi che i bambini hanno qualche trauma o qualche problema e soprattutto come spiegarlo ai bambini che esiste l'orco. E quindi lo ristamperemo. Il secondo punto è parlare di omofobia. Sono tanti ragazzi che ci scrivono nelle nostre chat. Tu Luigi sei sempre molto attento a segnalarmi le mail. Che mi mandano, dove che scoprono di essere appunto omosessuali, hanno paura, hanno paura di dirlo ai genitori, soffrono in silenzio questa loro condizione. E noi abbiamo il compito di rassenerarli e di seguire e di accompagnarli nella scoperta della loro sessualità, perché sono anche ragazzini adolescenti, quindi ancora molto... Fase di crescita. Fase di crescita, quindi hanno una serie di tempeste anche personali. Per cui questo è il nostro compito, di accompagnarli nella scoperta di una sessualità che è ancora molto indecisa da parte loro. E il terzo punto è quello di continuare a combattere le discriminazioni sul posto di lavoro che le donne subiscono quando restano in uno stato di gravidanza o sul posto di lavoro in un precariato che è ormai dilagante. Quindi insomma c'è tanto da fare Luigi, c'è ancora tanto da rimboccarci le maniche.